I 10 migliori doppiatori della storia del cinema in Italia, dal peggiore al migliore, questa sarà la classifica di ciaccazione sui doppiatori italiani, è stato difficile sceglierli 10, vero Vale? vero, vero, perché comunque come sappiamo l'Italia è prima al mondo per il doppiaggio, quindi fare una selezione di questi grandissimi artisti non è stato per niente facile, visto che la storia del doppiaggio italiano appunto ne è piena, quindi siamo riusciti a sceglierne 10, ma ragazzi è stato veramente, veramente difficile Anche perché noi ne abbiamo intervistati tanti sul nostro canale, sul Ciaccazione, abbiamo avuto tantissimi ospiti, doppiatori, doppiatrici che ci hanno raccontato tantissimi segreti dietro le quinte, storie, aneddoti della storia del doppiaggio e abbiamo deciso di sceglierne 10 senza nulla togliere agli altri, lo diciamo subito, tutti sono dei professionisti bravissimi Ma abbiamo scelto 10 nomi per quello che hanno dato alla storia del doppiaggio e anche per le nostre preferenze anche di vocalità, di ricordi che ci hanno fatto scaturire della nostra infanzia per tanti motivi, tanti motivi che vogliamo fare una classifica personalizzata, anche se i nomi da fare sarebbero veramente molto più di 10, no? Assolutamente, assolutamente, soprattutto per il grande impegno che ci mettono questi artisti nei film, ci raccontavano i diversi segreti, come hai detto anche te, durante il doppiaggio di molte delle pellicole, magari eseguendo le stesse azioni degli attori doppiati Quindi, insomma, c'ho un lavoro gigante dietro, quindi premiamo, tra virgolette, insomma, perché, come hai detto, è difficile scegliere 10 artisti che comunque siamo riusciti a selezionare Dai, vediamo un attimo cosa, chi taglia, vediamo chi abbiamo scelto questa top 10 di giaccazione Sì, allora, partiamo subito dalla posizione numero 10 e noi abbiamo deciso di mettere Pino Insegno, il grande Pino Insegno, alla posizione numero 10, voce che inizia a calcare il doppiaggio con Il Signore degli Anelli Perché poi Pino Insegno è stato attore, lo ricordiamo tutti con la premiata ditta, ma poi è dal 2001 che la sua vita professionale cambia con il doppiaggio di Biggo Mortensen nel Signore degli Anelli E da quel momento è sempre stato la voce di Biggo Mortensen, ma ha cominciato a doppiare tantissimi film e anche cartoni animati, no? Pino Insegno è appunto famoso, oltre alla voce di Biggo Mortensen nel Signore degli Anelli per il grande monologo alla fine del Ritorno del Re ma anche per la voce di Diego in Madagascar, che è la tigre dai denti a sciabola, che comunque molti accostano alla sua grandissima voce sappiamo poi, come hai detto, Biggo Mortensen e molti altri attori ai quali ha dato la voce c'è una voce in particolare che associ a Pino Insegno? Io vabbè assolutamente Biggo Mortensen perché il Signore degli Anelli è veramente immenso Beh, recentemente lo abbiamo ascoltato con uno dei personaggi di Barbie, l'attore Will Ferrell il capo della Mattel nel film di Greta Gerwig e avevamo pubblicato anche un video in cui Pino Insegno incontrava l'attore che ha doppiato, che ha doppiato da sempre era stato molto divertente anche quello sketch che hanno fatto insieme però sì, anche nel mio cuore c'è Biggo Mortensen, ma anche in Green Book Pino Insegno è uno poi che riesce a cambiare notevolmente anche la sua tonalità in base alle parti che deve fare e ai personaggi che doppia è veramente un grande artista, grande professionista, grande doppiattore perché poi il doppiatore è anche attore Esatto Allora, passiamo alla posizione numero 9 la posizione numero 9 abbiamo deciso di mettere un ragazzo perché così è è molto in voga nel doppiaggio recente perché poi abbiamo cercato di unire anche il doppiaggio la storia del doppiaggio, quindi i doppiatori un po' più vecchiotti ai doppiatori della nuova generazione al nono posto c'è Andrea Mete che è figlio d'arte di Marco Mete che è una delle due voci di Robin Williams ma Andrea Mete sta dimostrando al di là del fatto di essere figlio di uno dei grandi doppiatori in Italia sta dimostrando di essere un grandissimo professionista che, guarda, faccio proprio due nomi ha dato la voce a Sam Claflin in Hunger Games io prima di te a Joseph Gordon Levitt in Inception il Cavaliero Scuro Robin The Walk Snowden il processo ai Chicago 7 che noi avevamo, di cui avevamo parlato anche durante gli Oscar Chris Pratt Justin Justin Timberlake Zac Efron Liam Hemsworth Andrea Mete che ha fatto anche lui tantissimi anche film d'animazione è una voce molto particolare molto molto particolare mi piace mi piace un sacco e film d'animazione vabbè abbiamo l'abbiamo sentito in Jack Frost delle 5 leggende anche se era un po' più piccolo di adesso perché le 5 leggende se non sbaglio di quasi 10 anni fa quindi insomma però già da adolescente alle prime armi aveva dato la voce a parecchi film a parecchi prodotti quindi anche il pezzo buon sangue non mente buon sangue non mente sì 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 una vocalità particolarissima ed è uno dei dei doppiatori più sexy più sexy d'Italia leggevo una una classifica fatta dalle ragazze dalle ragazze e non solo ma è considerato uno dei dei doppiatori più sexy in Italia allora andiamo avanti all'ottavo posto di questa nostra classifica c'è una doppiatrice direttrice di doppiaggio che noi abbiamo intervistato su Ciaccazione che è Chiara Colizzi che salutiamo ne approfittiamo per salutare che è la voce ufficiale di Nicole Kidman Kate Winslet ma anche Uma Thurman no? assolutamente beh Chiara l'abbiamo intervistata ci ha raccontato molte molte aneddoti interessanti e curiosi anzi se volete andare a recuperare la live la trovate sul nostro canale YouTube e nel quale la quale si racconta un po' con noi e si fanno due chiacchiere proprio sulla passione e in che modo ha iniziato a lavorare in questo settore comunque Chiara ha come hai detto Nicole Kidman e Kate Winslet in Titanic soprattutto perché la ricordiamo in molti in tutti probabilmente perché è uno dei primi film che aveva doppiato se non ricordo male che ha comunque aiutato la sua ascesa al doppiaggio il primo film sì che l'ha resa grande nel mondo del doppiaggio esatto e ci aveva svelato anche le criticità che ci sono dietro ai compensi per i doppiatori ai diritti d'autore ai pericoli dell'intelligenza artificiale che sta arrivando prepotentemente anche nel nel lavoro del doppiaggio è stata interessante anche come tutte le altre interviste che abbiamo fatto ma un'intervista con Chiara Colizzi devo dire se non l'avete vista recuperatela perché è molto interessante sì assolutamente ripeto sul nostro canale c'è anche azione youtube ma dovrebbe essere anche su facebook giusto Valeria è rimasto sia su facebook che su youtube comunque Chiara merita assolutamente l'ottavo posto nella nostra classifica perché è una grande una grandissima artista al settimo posto siamo ancora nel genere femminile e abbiamo una doppiatrice un po' più anziana un po' più esperta e un po' più della generazione anche precedente che è Maria Pia Di Meo voce ufficiale da sempre di Meryl Streep e di tantissime altre attrici soprattutto delle attrici di un'età un po' più avanzata se vogliamo no? ha fatto la storia del doppiaggio appunto come la Meryl Streep ha fatto la storia del cinema e lei a braccetto con Meryl Streep ha fatto la storia del doppiaggio italiano a livello femminile perché come hai detto voce storica di Meryl Streep ad oggi comunque tuttora è la voce dell'attrice stessa e l'abbiamo ascoltata anche in Don't Look Up l'ultimo film nel quale è comparsa Meryl Streep e se non sbaglio l'abbiamo ascoltata anche in Holly Martens in the building dove appunto ritroviamo Meryl Streep è la serie tv che potete trovare su Disney in più e poi come dimenticare la parte e anche la voce perché poi io sono convinto che anche la voce italiana renda quel personaggio ancora più forte in alcuni momenti in alcune sbroccate come dico io nel film Il Diavolo Veste Prada indimenticabile quella vocalità e quell'emozione che trasmette anche attraverso la voce Maria Pia sul corpo e sulla faccia di Meryl Streep perché poi non è facile incollarsi alla faccia e sembra veramente che esca dal corpo di Meryl Streep la sua voce quindi Maria Pia di Meryl poteva stare benissimo fra i primi tre anche perché una delle doppie atrici veramente doppiatrici italiane più 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 brave della storia del doppiaggio certo non è stato facile appunto perché tra i primi tre abbiamo poi ci arriveremo capirete il motivo capirete perché esatto capirete perché era impossibile mettere qualcun altro nei primi tre posti ma anche tra i primi cinque allora passiamo al sesto posto e io sono veramente sono innamorato pazzo di questa doppiatrice che è Domitilla D'Amico e qui torniamo un po' sul più recente sul più recente doppiaggio e Domitilla l'adoro perché è voce Emma Stone Hannah Hathaway Scarlett Johansson tantissime di Margot Robbie per dirne una ma è veramente una professionista che ha iniziato non da figlia d'arte ma con una passione incredibile per dare le voci ai cartoni animati ai film che vedeva da bambina in televisione pregava ai genitori di farle fare questo lavoro i genitori facevano tutt'altro e lei ha raccontato che grazie dopo tante suppliche grazie alle prime prove da bambina e al fatto che avesse questa passione indescrivibile per il doppiaggio ha iniziato ha iniziato a lavorare ha iniziato a fare i primi turni quando era molto piccola e da lì è stata una carriera in ascesa e personalmente è una delle veramente delle migliori doppiatrici in Italia adesso contemporanee ma poi è una voce che avrete sicuramente sentito sia nei cartoni animati che nei film è veramente brava sì perché come abbiamo detto appunto Margot Robbie in Marby in Babylon in The Wolf of Wall Street Margot Robbie l'ha doppiata praticamente sempre a meno che mi sfugge qualche film però se non sbaglio è sempre stata doppiata da lei stessa cosa per Scarlett Johansson a parte forse qualche film ma sì a parte qualche film però diciamo quelli cicciotti esatto compreso storia di un matrimonio compreso Jojo Rabbit ma guarda parlavamo di Emma Stone no? l'altro giorno vivo povere creature la prima parte del film che dà quella voce a Emma Stone che è una bambina il corpo di una donna credo che non sia stato facile e la rende la rende benissimo anche in quella veste e tanto fa la voce che ci sta sopra oltre alla bravura dell'attore però io sono dell'idea andrò un po' controcorrente che i film doppiati sono belli e il doppiaggio italiano merita poi ovviamente li fanno lavorare tante volte in condizioni improponibili e velocemente di corsa e alcune serie tv o alcuni prodotti magari escono con una qualità non al top però non è sicuramente colpa dei doppiatori quello mai perché ci hanno raccontato tutti che il problema soprattutto per quanto riguarda le piattaforme streaming i ritmi sono aumentati e le richieste sono triplicate se non quintuplicate e quindi i tempi però sono rimasti gli stessi si sono accorciati a differenza degli anni precedenti degli inizi del doppiaggio quindi per questo si creano molte difficoltà anche nel doppiare bene ed entrare bene in una parte particolare a trovare quel mood giusto per interpretare quelle cinque righe che devi doppiare si poi loro hanno veramente la possibilità di vederlo in lingua originale una due massimo tre volte quindi è veramente difficile è un lavoro affascinante ma molto difficile se non sei veramente bravo non hai un bagaglio professionale elevato è difficile anche che ti riesci a incollare all'attore che sta recitando che ha già recitato perché il lavoro come ci raccontava Fabrizio Pucci altro doppiatore che abbiamo intervistato il lavoro lo ha già fatto l'attore e tu devi però dargli l'anima con la tua voce vero allora se tu sei d'accordo passerei alla posizione successiva e qui entriamo un po' nel vivo perché veramente questo doppiatore io è uno dei top del top italiani è Francesco Palofino e mi duole che sia si trovi alla quinta posizione dice ma avete fatto voi sta classifica sì però è stato veramente veramente difficile ragazzi lo rivediamo perché magari ci dicono Denzel Washington no 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 ma lo scopriranno lo scopriranno voce di Denzel Washington voce di George Clooney di Hagrid di Harry Potter di Arthur Manx in Forrest Gump vero Arthur Manx è un camaleonte e non ti accorgi che è Panno Fino che doppia certi attori no incredibile ma anche a me è piaciuto moltissimo non so se hai visto The Wrestler con Mickey Rourke nel quale doppiava il wrestler appunto il protagonista sì è stato secondo me fantastico perché doveva rendere quella affanno continuo di un di un personaggio sempre dolorante e sempre affaticato no sia durante poi i match che durante la vita normale perché lui aveva sempre problemi respiratori e abuso di sostanze antidolorifiche quindi aveva questo affanno fenomenale cioè ha reso alla perfezione l'idea del personaggio interpretato da Mickey Rourke altro altra grandissima prestazione anche di Mickey Rourke che affiancata al doppiaggio di Panno Fino hanno reso quel personaggio veramente incredibile l'ho adorato veramente bello bello bella questa cosa che hai raccontato Panno Fino poi insomma attore abbiamo conosciuto in tantissimi ruoli comici uno che sa fare l'attore il doppiatore con Boris poi insomma ci ha fatto ci ha fatto ridere e come si riesce a calare poi nelle parti drammatiche con con Denzel Washington o il ha fatto Tom Hanks e Forrest Gump in pochi lo sapevano in pochi se lo ricordano faccio questi esempi appunto tu dici Tom Hanks io ti faccio due esempi Willem Dafoe nei vari Spider-Man che faceva il Green Goblin con diciamo l'interpretazione sopra le righe appunto perché per interpretare il personaggio del Goblin è servito ad un'interpretazione sopra le righe e Daniel Day-Lewis nel Petroliere cioè è vero tutto un altro tipo di interpretazione che è agli antipodi è un personaggio completamente sopra le righe quello del Goblin mentre quello del non me lo ricordavo Daniel Day-Lewis è molto più quieto più tranquillo se possiamo tranne poi in alcuni momenti ovviamente nel quale si inalbera e da tutto se stesso ma due interpretazioni incredibili che stanno a dimostrare come hai detto anche tu la grande capacità camaleontica di questo doppiatore sì assolutamente passerei se tu sei d'accordo alla quarta posizione ci avviciniamo al podio e al quarto posto noi abbiamo messo il grande Luca Ward che veramente se non ci fossero quei tre sopra lo ridico sarebbe al primo posto nella nostra classifica aggiungiamo questa cosa sì sottolineiamola per favore perché allora mi starete chiedendo chi ci sta sopra poi chissà se ci darete ragione voi scriveteci nei commenti se siete d'accordo sicuramente Luca Ward è una storia il doppiaggio italiano voce ufficiale la prima voce di Russell Crowe la prima voce di Keanu Reeves ma tantissimi ha dato la sensualità spesso ha dato la la determinazione la quella quella cosa di di potere di potenza dei personaggi che ha doppiato e anche lui ci si è trovato un po' per caso nel doppiaggio lui ha raccontato che da piccolo non avrebbe mai pensato di fare il doppiatore che le prime volte non era nemmeno in grado di stare all'eggio che non è stato facile iniziare un Luca Ward che ha doppiato anche Samuel Jackson e l'abbiamo anche ascoltato recentemente nel film ora in sala appunto Argyle film che non è questo grandissimo capolavoro però è un film d'azione che si fa comunque guardare ovviamente bravissimo come sempre Luca Ward che storicamente ha doppiato Samuel Jackson anche nei film che l'hanno reso quello che conosciamo appunto Pulp Fiction e i vari The Yard ma anche lo stesso anche lo stesso Jackie Brown sempre diretto da Quentin Tarantino e Kingsman insomma Luca Ward che ha dato il suo marchio di fabbrica a quel Samuel L. Jackson che negli anni è diventato quello che conosciamo quello che conosciamo sì che poi con frasi veramente mitiche da quelle di Russell Crowe nel gladiatore a Samuel L. Jackson che legge Ezechiele in Pulp Fiction vero vero che grandissimo grandissimo Luca Ward entriamo nel podio al terzo posto troviamo Ferruccio Amendola che non potevamo non mettere nella nostra classifica dei dieci doppiatori che hanno fatto la storia del doppiaggio in Italia Ferruccio Amendola con questa voce sporca sporchissima riesce a diventare uno dei doppiatori degli attori doppiatori che lavora di più fra gli anni 70 e 80 se io ti dovessi fare un esempio insomma Al Pacino Robert De Niro Silvester Stallone ci siamo tutti cresciuti con questa voce di Ferruccio Amendola e io pensavo che fosse Al Pacino veramente che parlasse così quando ero piccolo vedendo il padrino veramente bravo Amendola che è stato rimasto nell'immaginario collettivo di tutti noi no? storicamente per De Niro lo ricordiamo soltanto così cioè sarebbe anche strano vedere gli intoccabili con la voce originale di De Niro perché non rende quanto lo ha reso Ferruccio Amendola talmente intensa la sua interpretazione che è indimenticabile rimarrà comunque un doppiatore indimenticabile perché è stato un grandissimo grandissimo artista sì passiamo velocemente al secondo punto e andiamo su forse uno dei forse più vecchio della nostra classifica Gualtiero De Angelis faccio brevemente dei nomi di attori James Stewart Cary Grant Dan Martin Errol Flynn Richard Conte George Raft John Garfield Derry Fonda Gary Merrill Richard Reagan Ettore Manni Barry Sullivan Kirk Douglas e Gualtiero De Angelis uno dei più grandi e tutti i doppiatori che abbiamo intervistato ci dicono Gualtiero De Angelis il grande Gualtiero De Angelis e c'è stato un periodo nella storia del cinema che tutti i maschi rifacevano una persona sola come tutte le donne faceva solo una doppiatrice e quello che faceva agli uomini la Gualtiero De Angelis è evidente c'è stato le basi per il doppiaggio come lo conosciamo ad oggi e quindi e riusciva ad interpretare ogni personaggio in modo differente no? Dean Martin riusciva a farlo in modo differente da un Cary Grant quindi ragazzi che cosa dire che cosa aggiungere se non dargli d'obbligo il secondo posto perché il secondo posto? perché al primo posto c'è un'altra voce storica che ha fatto la storia del doppiaggio in Italia che è Peppino Rinaldi se dico solo una cosa se voi andate a cercare l'elenco dei degli attori doppiati da Peppino Rinaldi c'è una lista che non si scorre così facilmente perché sono davvero tantissimi e è uno dei più bravi perché perché è uno dei più camaleontici cioè lui è stato per esempio voce di Jack Lemmon Paul Newman Rock Hudson Marlon Brando Peter Sellers ma come ci raccontò uno dei nostri Frank Sinatra come ci raccontò uno dei nostri ospiti se tu Kirk Douglas anche Peppino Rinaldi se tu sentivi la televisione accesa da una stanza all'altra in una stanza c'era un film con Jack Lemmon in un'altra c'era un film con Paul Newman tu non ti accorgevi che era la stessa voce questo per per dire la bravura di questi doppiatori è venuto a mancare nel 2007 Peppino Rinaldi storia del doppiaggio italiano e veramente dei sordi pensate casualmente come comparsa a Cinecittà e debuttò come attore nella fine degli anni 30 negli inizi della seconda guerra mondiale però venne la cosa divertente è che nei primi ruoli venne doppiato lui e poi è diventato uno dei doppiatori più bravi da attore da attore venne doppiato incredibile perché magari non aveva una bella voce guarda un po' sarebbe stato il colmo comunque è veramente e per noi è al primo posto ma vogliamo sapere anche voi cosa ne pensate se siete d'accordo se li conoscete tutti se li amate tutti se bene vengono in mente altri che possono stare in questa top 10 del doppiaggio italiano fatecelo sapere con un commento e ovviamente poi lasciate un like e iscrivetevi al canale se vi è piaciuto questo video questa top 10 fatta molto faticosamente molto scrupolosamente per cercare di limare al massimo questi incredibili artisti che insomma chi è che non è nella top 10 noi salutiamo perché abbiamo anche intervistato molti di loro che sono stati disponibilissimi quindi ragazzi riferiti a tutti gli altri doppiatori che non sono nella lista io vi ringrazio comunque perché lasciate sempre un segno indelebile nelle nostre vite ci permettete di guardare serie tv e film in italiano senza dover leggere e cercare di capire l'inglese che per me è difficile esatto noi li salutiamo tutti e cerchiamo grazie anche a queste interviste di dare voce a chi spesso non ce l'ha o che perlomeno lavora dietro le quinte nell'ombra noi vi salutiamo vi diamo appuntamento al nostro al prossimo video e seguiteci su facebook instagram siamo anche su tik tok iscrivetevi al nostro canale youtube e attivate la campagna la campagna e il video ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti